Presidente Elisurici, tutto parte da una lettera aperta che la sua associazione Confesercenti, unitamente a Confartigianato e CNA, ha fatto all'indirizzo dell'amministrazione comunale per una possibilità di aumento della Tari che era nell'aria. E poi c'è stata una risposta del segretario cittadino del PD che in un certo senso ha smentito questo aumento della Tari ma ha puntato il dito contro Francesco Elisurici e l'ha definito come facente parte della Lega e quindi contro l'amministrazione comunale. Lei cosa risponde? Sì, praticamente vorrei dare delle semplici risposte innanzitutto a delle dichiarazioni prive di fondamento fatte dal segretario cittadino del PD Cosimo Muscaridola. Vorrei cominciare brevemente dicendo che ricordando a Cosimo Muscaridola che l'associazione Confesercenti è un'associazione di categoria per cui non essendo una persona fisica non appartiene assolutamente a nessun partito politico qualunque esso sia. Dopodiché vorrei specificare un'altra cosa. Come dicevi tu giustamente la lettera aperta inviata al Comune di Matera e all'assessore a ramo è stata appunto sottoscritta da ben tre associazioni e non solo dalla Confesercenti. E purtroppo altre due associazioni non hanno potuto aderire per motivi ancora non ben dichiarati. Per cui questa lettera appunto inviata all'amministrazione comunale chiede le motivazioni della mancata differenziata al 65% così come riportato nel capitolato Doneri e nel regolamento dell'Atari. E inoltre chiede chiarimenti per quanto riguarda appunto questi prezzi spropositati che si sono poi riversati sulle imprese della città artigiane e commerciali. Presidente il Consiglio Comunale di Matera però non ha deliberato alcun aumento della Tari. Quindi lei cosa dice a proposito? Infatti questa è una dilazione che non va assolutamente incontro alle esigenze dei commercianti e degli artigiani anche perché non si tratta semplicemente di spalmare in più mesi questa tassa che comunque rimane tale e quale. Per cui il contribuente ammesso che possa aderire a questa dilazione perché hanno messo anche dei paletti di chi può e chi non può aderire avrà comunque nei prossimi mesi e quindi del 2019 due tasse da pagare. Quindi quello del 2018 e quello del 2019. Questa è una cosa secondo noi molto grave che l'amministrazione comunale deve assolutamente rispondere e dare delle spiegazioni in quanto da marzo scorso ci tengo a precisare. Noi abbiamo chiesto all'amministrazione comunale e all'assessione al ramo di turno se ci dovessero essere degli aumenti della Tari. La tranquillità che ci è stata data all'epoca è stata assoluta per cui ci dissero che la Tari non sarebbe assolutamente aumentata ed ora invece ci troviamo ad un aumento spropositato. È una risposta che ci viene da un segretario cittadino del PD che non capiamo perché risponde lui e non l'amministrazione comunale.